Ciao, sono Cristian Piretti e sono il responsabile per 3F Filippi del laboratorio Prove con l'Audio. Mi occupo di sicurezza elettrica, certificazione apparecchi e compatibilità elettromagnetica. All'interno del laboratorio eseguiamo tutti i test previsti dalla normativa di sicurezza elettrica di compatibilità elettromagnetica per garantire la conformità del prodotto. Abbiamo acquisito attrezzature di ultima generazione con un campo operativo molto ampio, meno 75 gradi più 180 gradi, per poter testare gli apparecchi in condizioni estreme. Questa è la nostra nuova camera climatica ACS Y2000, con cui eseguiamo test di endurasi in temperatura già controllata sulle nostre parecchie di illuminazione.